oooooh I'm sexy and I know it yeah I'm sexy and I know it e se prima non è in tre minuti ma quando va non ci mi sa zitto vabbè continuiamo lo stesso ciao a tutti anche se Anders sta sempre in mezzo vabbè questo nuovo video è il quarantesimo volta che registriamo tutto perchè M c'ha computer di merda boraccio vabbè allora come potete vedere si sta caricando sto gioco di merda falso turco è ormai che noi abbiamo il computer di merda ce li ha no è il gioco non è computer gioco turco è un gioco turca allora cominciate a scegliere il server questo è tutto un live di merda commenti io ce l'ho trovato eh dicelo K o A K o K K o A ma devi parlare per i spelli K o A K o A Z K o A K o A K o A K o A Team Deathmatch c'è un romanda di ping non mette le persone dove c'è tanto ping che c'è tutto un casino di genere no no è un pingfuck eh si è un pingfuck eh si è un pingfuck da oggi si è un pingfuck si è un pingfuck ah quindi ce lo fanno per scoraggiarsi e non entrare per scorreggiare scoraggiare per scoraggiarsi scusami la K sta dopo prima dai K o A come K o A ma io ci sto in elenquisi nel lego delle codiche nel 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 dell'alphabeto c'è un formaggino muto dove sta la gamba una gamba di merda chi sarebbe da non so io ogni volta ripeto l'alfabeto allora ripetiamo insieme A B C D F G H I ma è l'intelligenza di un formaggino eh 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 sentilo sentilo picchio picchio ma non ci sta aspetta mettere un spill trovato a B C D F veramente sei stupido ma io non lo trovo su serve del merda eccolo qua K o A K o A K o A ok sono dentro dove andiamo? oh M meno male che ci stava il pingfuck c'è sempre 175 vabbè M c'è la collezione ma mi va fluido ma mi va fluido eh si mi va fluido mi va fluido non è che ti va da fluido mi va fluido madonna l'importante è che va eh fanno apposta si io c'è 178 ma perchè mo si sono imparati mi scoraggiano fino alla fine ci sono imparati e moro il Nord Scout attenzione grande barracks si senti c'è chi è il lancero ma che cazzo c'ho una labbar oh vai con la lancia Anders che me la prendi? sento un cavaliere di ron è il culo è Gandalf attenzio al culo ma perchè tutta la mia fazione stacca a valle sull'unico pirla che c'ha ma che sei un negro ahhh non ha leggero a me ma io non ho cambiato manco il nome guarda che nick che c'ho bravo esatto M è morto dai la recensione non muore sei incendiato dai M M M M è morto no perchè mi stava ammazzando quando mi ammazzando vai in totalità Super Saiyan ma che le dà le dà oggi per starvi dietro a voi che non mi avete manco fatto fa niente non mi avete manco vede Dragon Ball complimenti hai alzato le mani ok questo punto del video dove ho detto Dragon Ball lo censuro DRAGONBALL comes guida mona è la legge ti sbatto le palle del cavallo il bot mori no muore ma che ma è una pinga falso ballo muore secco attenzione 7-3 subito super scurr oh declinate tutto il mondo per favore no 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 oh dio ti sta scialunga ma lo so che tu sei la natura non sei totale sta scialuppa lunga tanto al microfono eh che ti si fa la no Emme cerca la lancia lunga perchè di natura è un po' sproppisto di ange no sciogliamo il magardino attenzione tre colpi della morte nuori tre colpi della morte lo spawnone di Mello ma quanto finisce questo round? tre colpi del perpignano questo video sta durati buon anno ma 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 L'ultima kill su M E allora aspetta che me lo do Lopane Ci sono e si ha Lopane Lopane No esacente Il Pano Ok basta lasciamo così Grazie mille per la visualization Anders è aperta Questi due stronzi ci salutano Salutate Aspetta Salutate Non è vero Ok dammi la zampetta seduto A te Va bene grazie mille Alla prossima